Justine Bieber e Selena Gomez, ecco perché non ammettono la storia Cosa aspettano Justine Bieber e Selena Gomez ad annunciare al mondo intero che sono tornati insieme? Ecco perché per adesso hanno deciso di non parlare I Gelena inseparabili Non serve essere un mango per capire che tra Justine Bieber e Selena Gomez sta succedendo qualcosa che non si chiama di certo amicizia Le due star sono sempre insieme, escono in continuazione il giorno e la sera e passano il tempo libero rilassandosi a casa dell'uno o dell'altro E' stato anche chiarito che la storia con The Weeknd è ormai terminata e che con Selena la relazione è finita da settimane a causa della lontananza a cui li costringevano i rispettivi lavori, niente Justine Bieber di troppo insomma, nonostante le male lingue sussurrino di un triangolo affatto piacevole per l'ex ragazzo di Bella Did Anche se dalla bocca di Justine e Selena non è finora uscito nulla, i fatti parlano chiaro, i due sono tornati a essere una coppia e non potrebbero sentirsi più felici Ma cos'è che stanno aspettando per ufficializzare la relazione? I motivi della non ufficialità Quello che Justine Bieber e Selena Gomez stanno aspettando per annunciare al mondo il ritorno della coppia più amata del mondo della musica è l'ok di Selena Gomez E' lei che per adesso vuole aspettare e prendersi un po' di tempo prima di passare dall'essere la fidanzata di The Weeknd da quella di Justine Bieber Justine Stalla grande ha detto un amico del cantante canadese stare tutta la settimana con Selena è un sogno per lui Sta cercando di prendere le cose molto piano, ma non ci sta riuscendo sul serio E' troppo eccitato di stare così tanto con lei Sta aspettando però che sia Selena a dirli quando saranno tornati ufficialmente insieme Non ha nessuna fretta, anche perché a livello sentimentale è chiaro che sono una coppia Justine ha bisogno di vincere le resistenze della sua famiglia e ha capito che gli ci vorrà un po' di tempo, anche se ora è una persona completamente diversa rispetto a prima Sa che si è comportato male in passato e capisce bene le perplessità di Selena Vuole stare con lei e farebbe qualsiasi cosa per provarle di essere un fidanzato fantastico Le resistenze della famiglia di Selena Eppure ormai nessuno aveva più alcuna speranza che tra Justine Bieber e Selena Gomez potesse tornare a esserci il sereno La coppia più amata dai tenager di tutto il mondo non si rivolgeva la parola da anni, ossia dopo la burrascosa fine della loro storia d'amore Né Justine né Selena hanno mai rivelato troppi particolari sulle reali motivazioni che li hanno spinti a procedere su strade diverse, ma si è sempre vociferato che fosse a causa del carattere terribile di Justine Bieber, colpevole di aver fatto soffrire molto Selena Per questo la famiglia della cantante sarebbe furiosa per questi appuntamenti e per la ripresa della storia, e avrebbe addirittura detto che Selena Gomez sta mancando di rispetto a se stessa ma anche ai suoi parenti Insomma, la situazione è delicata, ed è comprensibile che vogliano aspettare prima di annunciare il ritorno dei Selena Sous-titrage Société Radio-Canada